In occasione del 25 aprile 2020 ho pensato di leggere un brano tratto dal mio ultimo libro intitolato Via dalla pazza classe, educare per vivere. È un volume in cui racconto le storie delle scuole Penny Whirton, scuole di italiano per immigrati, sparse in ogni parte d'Italia. Il capitolo che vorrei leggere si intitola La Partigiana. La Penny Whirton di Forlì si trova al centro della pace di Via Andrelini. L'hanno creata Massimo e Liana, marito e moglie. Due persone straordinarie, sempre pronti a rimettersi in gioco, consapevoli che non si può essere felici se l'infelicità colpisce chi ti sta accanto. Inoltre il posto dove cominciarono a insegnare l'italiano agli immigrati, con il contributo di tanti volontari che vanno e vengono, ha per me qualcosa di speciale. La prima volta che sono andato da loro ho scoperto che i locali si trovano nella stessa strada dove vive Antonia Laghi, la donna che durante la Seconda Guerra Mondiale gettò in segno di omaggio dei papaveri rossi sul cadavere di mio nonno, fucilato dai nazisti. Quando mi sono reso conto della vicinanza fra lei e la scuola romagnola, capace di coinvolgere tanti ragazzi italiani come docenti, ho avuto l'impressione che il Novecento, questo secolo tragico e sanguinario, avesse voltato pagina. Allora mi sono diretto al centro di riposo per anziani intitolato a Pietro Zangeri, attraversando una palude dentro me stesso. Mentre percorrevo i corridoi dell'istituto, prima di bussare alla porta della sua stanza, ho sentito mio nonno che mi batteva una mano sulla spalla. Vai Eraldo. Per Antonia Laghi, così come per lui, la resistenza fu più di una realtà politica. Entrambi, schierandosi contro i fascisti in nome della libertà, compirono nelle brigate caribaldi la loro educazione sentimentale. Mio nonno morì insieme a nove cittadini italiani. Con i partigiani Antonia divenne grande, capì che un essere umano da solo non ha peso. Ecco perché, finché le è stato possibile, è sempre andata nelle scuole a parlare ai ragazzi. Ha sentito la necessità di raccontare la sua storia affinché essi ritrovassero i valori con i quali lei è cresciuta. A questi giovani, prima ancora delle parole, dobbiamo dare azioni da compiere, impegni da svolgere, amicizie da costruire, quel clima affettivo senza il quale in teoria non dovremmo nemmeno iniziare a spiegare. È stata Antonia Laghi a farmi capire che la democrazia non la possiamo dare per scontata. Va riconquistata sempre, giorno per giorno, ora per ora e stavolta su scala planetaria.